Perseguito a un avvocato e viene raggiunto da misura cautelare, è accaduto a Vallo della Lucania dove i carabinieri della locale compagnia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti di un 76enne cilentano. La vicenda pare trago origine da un rapporto professionale tra i due a cui sarebbero seguite azioni persecutorie messe in campo dall'anziano nei confronti del suo legale, tanto da aver innescato il procedimento. Ora al 76enne è stato imposto l'obbligo di mantenere una distanza di 500 metri dalla persona offesa e il divieto di avvicinamento allo studio legale dell'avvocato e al Palazzo di Giustizia di Vallo della Lucania. La misura è stata emessa dal GIP del Tribunale di Vallo su richiesta della locale procura. Per il 76enne è scattato l'iter per l'applicazione del braccialetto elettronico.